Non ha anticipato nulla riguardo l'undici titolare, Mister Sottili, ma la formazione a Maranto, che domani affronterà il Como nella prima di campionato, si schiererà con il canonico 4-2-3-1. In porta ci sarà Benassi, in difesa Luciani e Masciangelo presidieranno le corse esterne con il compito di cercare la profondità. Al centro del reparto si riemilesi, mentre Foglia farà coppia con Corradi in mezzo al campo. Il tridente alle spalle dell'unica punta e capitano Muscardelli sarà formato da Bearzotti, Grossi e Gianga. Tra gli indisponibili figurano lo squalificato Sabatino, Rossetti e Benucci, mentre Arcidiacono andrà in panchina, pronta a subentrare. Reduce dalla retrocessione dalla Serie B e dichiarato fallito lo scorso 23 luglio, al Como è stato concesso l'esercizio provvisorio che ha permesso l'iscrizione al campionato dei Lariani. La squadra, affidata a Fabio Gallo, generalmente si dispone con un 3-5-2 disegnato con Crispino in porta, Ambrosini, Briganti e Nosse in difesa. A centro campo l'ex Sperotto, calciato da Rezzo dopo la registrazione dell'audio di Capuano, occuperà la fascia sinistra con Marconia a destra. In mediana spazio a Pessina, Fiette e Di Quinzio. In attacco, attenzione all'esperto, Lenoce e Cortesi. Calcio d'inizio alle 16.30, arbitro dell'incontro, il signore Emanuele Mancini di Fermo, coadiuvato da Francesco Gentileschi di Terni e Tiziana Trasciatti di Foligno.